Illuminazione scarsa e addirittura assente in un'arteria cittadina, situazione protrattasi per alcuni giorni. Questa la segnalazione arrivata alla nostra redazione nei giorni scorsi. I lampioni infatti sarebbero rimasti spenti in via Gaetano Costa. Illuminazione ridotta anche nella rotatoria che si trova in via Leone XIII, proprio in prossimità dell'incrocio con la stessa. E nelle rotatorie vicine, dove anche in questo caso risultavano spenti i corpi illuminanti presenti al loro interno. Un disagio soprattutto per i pedoni. Spesso molti giovani e giovanissimi che frequentano la zona si ritrovavano ad attraversare la strada nonostante la scarsa visibilità. Negli impianti di competenza del libero consorzio comunale sarebbero in corso le verifiche, così come ci spiega il commissario straordinario contattato telefonicamente. La causa dello spegnimento dell'impianto di illuminazione di via Costa sarebbe stato un guasto, racconta l'assessore ai lavori pubblici del comune di Caltanissetta. Intanto l'azienda che si occupa della manutenzione, contattata dall'ufficio preposto, avrebbe sistemato e ripristinato in inizio settimana la pubblica illuminazione.